Professor Corsi, l'Università di Teramo oggi è desolata con l'entrata in vigore dell'ordinanza regionale del Governatore Marsilio. È arrivata un po' inaspettata, ha chiuso le università dopo appena tre settimane di lezione. Sì, c'è stata questa ordinanza del Presidente della Regione che riguarda tutte le università abruzzesi. Quindi, considerando e analizzando la curva dei contagi, è stata messa online tutta l'attività didattica, tutti gli esami e anche le discussioni delle tesi. Una decisione presa considerando l'andamento, ovviamente, dei contagi anche della nostra Regione. Per il mondo esterno all'Università è sembrato un fulmine a Cercereno, nessuno se l'aspettava. Invece voi, giustamente considerando i dati, avevate previsto che potesse succedere una cosa del genere. Vi siete preparati come avete fatto durante il lockdown? L'Ateneo è pronto, le facoltà sono pronte, tant'è che tutte le facoltà dell'Università di Teramo e anche la mia facoltà, la Facoltà di Scienze della Comunicazione, da oggi eroga tutta l'offerta formativa, ovviamente online, con la piattaforma Google Meet. Abbiamo fatto tesoro ed esperienza di quello che è accaduto nel secondo semestre dello scorso anno accademico. Abbiamo avvertito tempestivamente tutti gli studenti e quindi abbiamo cercato con una comunicazione puntuale di arrivare a una comunicazione capillare da una parte, rassicurarli dall'altra, rendendoci disponibili anche a dei ricevimenti aggiuntivi per supportarli nel loro percorso di crescita. Professore, lunedì era in programma un grande evento europeo alla Facoltà di Veterinaria. Tutte le procedure sono online, poi ispetterà il Rettore a autorizzare eventi o attività invece che si possono svolgere fisicamente in Ateneo.